Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. L'attesa è alle stelle per la nuova edizione del Grande Fratello, e i rumor sono già in fermento. Pare che un popolare tiktoker napoletano, che con Apoli 29, stia per entrare nella casa più spiata d'Italia. L'indiscrezione arriva direttamente dai suoi social, dove ha annunciato la partecipazione a un programma Mediaset, senza svelarne il nome. Sarà davvero lui uno dei nuovi concorrenti del GF? Scopri tutti i dettagli in questo articolo. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie mille per aver guardato il video.